Ciao a tutti ragazzi, ben un nuovo video che nonostante ci sia il pattino davanti non ho un video di pattinaggio o meglio, riguarda il pattinaggio perché riguarda il nostro rapporto con voi, mi sto impappinando male ma è un video dei auguri esatto, vi vogliamo fare gli auguri di buon Natale, infatti questo video uscirà se ce la faccio per le 7 speriamo, vediamo se riesco, mai ce la farò comunque sia perché sono pigre e mi trovo sempre l'ultima a fare i video e niente ragazzi, ho chiesto se mi mandavate dei video in cui voi facevate gli auguri e me ne avete mandato, sono un sacco contento e quindi ora io mi zittisco e mando i video quelli lì che sono molto più carini e teneri quindi ragazzi ancora davvero, davvero grazie un sacco di auguri questo annale sta crescendo un sacco, sono un sacco contento, mi fa un sacco di piacere vi voglio un sacco di bene, si può dire a una telecamera che è per te che parlo con una telecamera benissimo, partiamo con i video degli auguri e con questo video speriamo anche di poter ritornare a pattinare da gennaio sperando che ci riaprano passate le buone feste, vi auguro un buon Natale, un buon 26 e poi per il 31 mi risorbite perché vi rifaccio gli auguri per l'anno nuovo sperando in un 2021 con i fiocchi ci manca il meteorite 2021 siamo a posto no, niente meteorite se arrivo il meteorite voglio 100.000 like a questo video è previsione, mi raccomando via con gli auguri ciao a tutti, vorrei augurare buon anno e buon Natale a tutti e anche se quest'anno non si potrà festeggiare insieme però spero di rivedervi presto e buone feste, ciao ciao a tutti, vi volevo augurare buon Natale e buone feste speriamo di rivederci presto perché questa situazione cambi il prima possibile e tanti auguri di buon Natale bacioni ciao Giacomo e ciao Alessia volevamo farvi gli auguri di buon Natale a tutti quanti a tutti i pattinatori noi siamo sei mesi che si pattina e scriviamo i vostri video e grazie di tutto e buone feste e buon Natale a tutti ciao 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 grazie a tutti spero che questo Natale ci doni la possibilità di ritornare alla normalità e vi auguro buon anno e buon Natale grazie a tutti 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 ciao a tutti ciao a tutti ragazzi partiamo con il video degli auguri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti